Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Stiamo continuando appunto la serie di client E oggi andremo a fare un client che in teoria è uscito da poco, non lo so Che si chiama Solar Client, regà E' praticamente simile, Lunar è proprio la copia del Lunar Client Ho visto un po' di cosetti, andremo a provarli insieme Vi invito a lasciare un bel like, a descrivervi, attivare anche la campanellina Purtroppo questo client è anche premium, cioè capite, abbiamo ancora una buona visione Ci siamo, regà, ci siamo, oddio Allora, si, boosta sto client, ma do tutto da settare, ma do, è un casino Allora, allora, non abbiamo neanche il mantello, vabbè, non abbiamo neanche le ali, giusto perché Questo non è un Lunar, ma è un Solar Client Allora, 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 allora A boostare comunque è boosta, lo vedo molto molto bene Allora iniziamo a settare le mod Direi di partire appunto da tutte le animation, le mettiamo, naturalmente, vabbè, è tutto uno set Come già c'è? Cerca, ma è un Lunar Client Ma è un Lunar Client, questo qui lo tolgo perché non mi serve Pozzone Effect le lasciamo Level, perché 112 se non sono c'è? 112 Magma Boss Armor Status, va bene, la possiamo togliere, tanto non la usiamo Le coordinate le togliamo, le direzioni le togliamo L'Avestrokes la togliamo, tanto non ci serve GPS e FPS li mettiamo Li mettiamo solo qui senza modificare Tanto, ragazzo, per vedere appunto se è busta come il Lunar o no C'è il Crosshair? No, non c'è il Crosshair Arrow Eh, vedete, il ping, vabbè, non ci serve, tanto lo sappiamo qual è il ping Block Out 3 non lo metto Ok, e poi andiamo a vedere un po' che c'è Il Time Changer, possiamo mettere tipo così Ah, non c'è, non può usare il, l'orario vero Va bene, cosa che nel Lunar c'è Cos'è la schematica, boh, ma che cazzo sto vedendo Va bene, queste, vabbè, che scurito togliamo Scoreboard la lasciamo, Boss Bar la togliamo Che non ci serve, cooldown non lo togliamo Non lo lasciamo, Freelook Ah, mettiamo F perché lo usiamo Va bene, va bene, va bene Ci sono mod che comunque su Lunar non ci sono Direi di startarci una singolo Allora, allora, intanto siamo con la Marcus Pack E poi, se proprio la vogliamo vedere tutta, regà Ci manca la Pack Display Possibile che c'è, ragazzi Ma è intrappolata qui che si deve trovare Vabbè, ma alla fine non ci interessa Allora, regà, che gli FPS sono gli stessi identici di Lunar È praticamente un cazzo di Lunar Client, regà Ho messo il Block Outline, ragazzi Perché appunto mi sta trovando bene Oh mio Dio, regà, è un Lunar Client È un Lunar Client Cioè, praticamente, hanno fatto la coppa del Lunar Client Proprio identica, spiccicata L'hanno fatta anche per bene, regà, eh E però è anche per Premium Cioè, ma se lo fa almeno non fa la per SP Perché chi ha il Premium Naturalmente non è che si va a mettere sto Client di merda Si va a mettere un Lunar Client Cioè, non capisco, ma va bene così Ok Le particelle le devo attivare, mi sa Perché non le vedo solo con i Critical Cioè, ma quello... Ma mi sono fatto scompare da questo Comunque c'è una roba nella Dimension Che adesso andiamo a vedere C'è qualcosa che devo modificare Ok, calcolate, ragazzi, che è il secondo game No, il terzo game del giorno, tipo Vabbè, ho giocato giusto per fare le quest praticamente prima Perché ho messo la TNT? Goto! 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 Volevo rompermi il letto Comunque devo vedere una roba nelle mod, ragazzi No, perché ho preso... No, ecco, ho preso sia Endstone che legno No, sono un babbo di merda Devo prendere o Endstone o legno Invece ho preso tutti i due sbagli Invece di prendere la lana Ma va bene così No, vabbè, LOL Ha quittato il bianco Ha visto che niente Non era scarso, raga Ha quittato, GG Comunque, cosa che devo vedere Qui l'animation Dello Sneaking 1,8 Sì, mi trovo meglio con lo Sneaking Che in 1,8, raga Non so perché Anche se è diverso Nel Lunar ce l'ho diverso Non mi ricordo com'è Comunque, raga Cioè, nel senso Se chi ha fatto il client Aveva un cervello Intanto l'ho copiato Praticamente da Lunar È premium E chi ha il Lunar Client Naturalmente, ragazzi Resta da Lunar Non è che passa da solo al client Perché è identico Spiccicato questo client E la copia del Lunar Client Praticamente Un po' fatta male anche, raga Perché, come possiamo vedere Non è veramente benissimo, raga Sinceramente, come dire Boh, mancano delle mod Le mod 9 non ci sono Quindi alla fine Non è neanche la copia del Lunar Client Fatto sta Qui c'è il grey Facciamo così E il letto è andato Molto, molto easy Cioè, abbiamo il grey qui Vieni Morto Nice Oh No, no, no Perdiamo tutte le pozze No Ho perso le pozze Non ci credo Non l'avevo proprio visto Va bene, va bene Comunque, veramente, ragazzi È un client abbastanza cringe Ma proprio cringe Che poi non vedi neanche L'icona del Solar Client Cioè, non vedi neanche l'icona È veramente fatto male Quindi, alla fine, poi Non vedi nessuno Ma ci sono i balletti, combi? Ci sono anche i balletti Cioè, che balletti hai? Non mi direi che ci sono C'è lo shop del Solar Client Perché, dopo, ragazzi Se mi ricordo Andiamo a vedere Ma se c'è lo shop del Solar Client Giuro che Spacco qualcosa Comunque, sto giallo che Bravo, bro C'è il rotelletto Sei fortissimo, bro Devo un attimo che è polare No, mi ragazzi I balletti non ci sono Hanno messo solo questi Mita, attraverso i blocchi questi GG, bro Come ti chiamano? Figlio di puttana Bravo, bro Bravo, ma sei fortissimo Ma sei fortissimo Ma non va niente Sei fortissimo, bro Complimenti Andiamo sulle mod nuove Che vedono, appunto L'ultima giunta Che sono le coordinate Che, vabbè Level Che è il 112 Ah, c'è l'autogg L'autofriend L'anti-gg Leveled Oh, si può vedere il livello? No, vabbè C'è il leveled C'è il leveled Molto, molto bene Vabbè L'autotip Che non so che cavolo è Level Non va bene Ok Poi abbiamo Se andiamo a vedere Magma Boss Skyblock Add Non so, credo che sia per la Skyblock Questa mod Ok, c'è anche scritto E nulla, regà Queste sono le mod Però non vedi il Chi usa il tuo client Niente, non lo vedi Ma va bene così Che poi, ragazzi Che cazzo è che usa sto client? Se uno deve usare questo client Usa il Lunar Client Almeno che, ragazzi Non lo so Ha problemi Va bene Cioè, veramente Se ci pensate, ragazzi È una roba troppo insensata Fare questo client Il letto a rosso È andato Molto, molto easy Vieni qua, bro Mi vuole trappare Che scemo Che scemo Credo sia il player Più scemo di pixel questo La free look, ragazzi Funziona anche bene No? È un po' stortina Non è proprio come quella del Lunar, ragazzi È meno fluida È un po' storta Quindi sia per questo, ragazzi Non è neanche fatto bene Ok, andato Sì, è morto da solo Forse mi fa un chilo Fai il chillato No! Per quanto? Per mezzo millesimo di secondo Ma va bene Oh, non lo vedeva Era invisibile Era invisibile Ok, GG Oh, mi hanno distrutto il letto Molto, molto bene C'è l'aco, ragazzi Che mi sta guardando Guardate con che faccia mi qua Oh, sono anche caduto Bro, ti ho fatto una combo Che te la ricordi fino a dopodomani Molto, molto easy Ok, vieni qua, signoraco Vieni, vieni Vieni, signoraco Vieni È morto C'è un quei minchia 13 di gold Che mi ha dato Mamma mia Ma almeno sai chi muori, bro Ma almeno buttali nel vuoto, no? Però vabbè Tu dici E beh, io tanto finisco il game Oh No, no, sono morto Non ci credo Comunque, veramente Non si fanno una cazzo di vita incredibile Non si fanno una vita No, ragazzi Il bianco Il bianco si chiama buco di culo I miei ragazzi Comunque si aggiornano appunto Il client E mettono Ad esempio Il nome mod, ragazzi Tra pack display, eccetera Mamma mia Io rido Veramente rido Qui c'è la performance Full bright Che già c'è Uh, c'è lo scroll zoom Uh, vabbè È una cosa f***a L'hanno fatta Però non c'è il nuovo zoom del lunar Mi sa, eh Non c'è il nuovo zoom del lunar Ragazzi Lo zoom è migliore, diciamo Eh, manca lo zoom del lunar Ragazzi Quello lì è uno zoom Che comunque Usa tanto E mi piace un botto Mi piace veramente un botto Cerchiamo di concludere In bellezza Almeno questo game Che è questo Minchia che knockback Che ho dato Molto, molto easy Facciamo il letto Eccolo che arriva Saltiamo qui Block it Knockback Lo prendiamo in combo Vieni qui Vieni qui Vieni qui E sei morto, bro Sei morto Vai via No, il giallo sta arrivando in base mia Mi sa che non riesco A proteggere il letto No, no, no Ci riesco invece Ci riesco Ci riesco Almeno che ragazzi Non si metta a coddiggiare Oh, è anche caduto Appostissimo Senza nessun problema Eccolo che arriva Oh, mi sono rimasto intrappolato Oh, ma c'è l'icona del solar client Usa il solar client No, abbiamo trovato qualcuno Con il solar client ragazzi Però non si vede in tab Non ci credo Usiamo lo stesso client, bro Perché usi questo client, bro? No, bro Mi fai preoccupare Che usi questo client Lui potrebbe dire la stessa cosa ragazzi Però lo sto registrando Quindi No, si è buttato nel vuoto E niente Arriva il grigio mid Ragazzi Che è una bella final Questa Non so se ci riusciamo Mi sa che ci riusciamo proprio Oh Ma quanto lagga Oh Oh Ok ragazzi Qui c'è il rosso Che potremmo farci Se faccio così Prende knockback, giusto? Magari se smetto di laggare Anche è meglio E il letto è andato Gheppoliamo al volo Oh Ah, bro Ah, bro Ma laghi più io che te, bro Gigi Ok, abbiamo perso il letto Dobbiamo andare subito E vi dico subito In base verde Corriamo raga Corriamo Ok, fare così Morto Rompiamo anche il letto Molto molto easy Gheppoliamo al volo Morto Perfetto Io contro il grigio Andiamo Ne ho una Apri la domani Quanto godo Ragazzi Vi direi che questo client Non lo so Ma Non mi ispira molto Copia di una client Ma abbiamo trovato uno Che lo usa raga E questo mi rende felice Ragazzi Vi auguro una buona giornata Fatemi sapere voi Che sono pensate Di questo client In questo commento E consigliatemi Altrimenti da provare Vi auguro una buona giornata Iscrivetevi E mettetevi Dalla campanellina Bella Vi auguro una buona giornata